Ciao, in questo video voglio parlarti di Una vita da mediano, che è anche il titolo di una canzone di Liga Bue. Cosa significa questo? Significa che chi è il mediano? Il mediano, io non seguo il calcio però mi sono documentato, è quel ruolo, diciamo, in una squadra di calcio che si occupa di tamponare gli avversari, fare pressing, recuperare dei palloni al centrocampo e di passarli a chi poi può finalizzare il gioco per segnare o per fare delle azioni. È un ruolo che sembra di secondo piano perché normalmente il mediano non è un gran talentuoso del calcio, non ha come si suol dire i piedi buoni, però ha molta determinazione, corre da tutto fino alla fine e non molla mai. L'esempio della canzone che ha scritto Liga Bue ricorda Oriali, quel famoso mediano, diciamo, dell'Italia dell'82 che ha vinto i mondiali anche grazie al suo apporto. E quindi è importante avere anche questa mentalità. La mentalità da mediano non è assolutamente da confondersi con la mentalità da mediocre, perché il mediano ha la perseveranza, la tenacia, non molla mai, insegue i palloni anche difficili, tampona gli avversari, quindi sa tenere a distanza i problemi e sa recuperare dei palloni importanti. Recuperare dei palloni importanti vuol dire riuscire ad avere anche delle idee per passare poi la palla a chi può segnare. Questa è una mentalità che dobbiamo acquisire perché il talento è fondamentale sicuramente, ma è molto più importante avere una mentalità, diciamo, perseverante, non mollare mai, non arrendersi mai. Dare tutto fino all'ultimo respiro. La nostra vita dal primo vagito all'ultimo respiro è da amare. Dobbiamo avere delle possibilità, sfruttare al massimo le nostre possibilità. Quindi acquisire la mentalità da mediano è determinante per stare bene. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!